Sotto i grattacieli ipermoderni di Rotterdam, uno dei cuori architettonici dell'Europa contemporanea, Iveco è stata premiata per l'impegno nella promozione del gas naturale come carburante alternativo. Nel corso di una cerimonia tenutasi nel suggestivo padiglione Driven sulle acque del delta del Reno, NGV Global, l'associazione internazionale per il gas naturale, ha consegnato a Pierre Lauth, brand presidente di Iveco, il premio NGV Global Industry Champion. Ricevere un tale premio per un marchio come Iveco, che è probabilmente forte in Europa, è molto significativo perché la comunità mondiale che promuove il gas come soluzione alternativa in termini di energie per il trasporto ci riconosce per tutto il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi vent'anni che oggi sicuramente prende un nuovo giro in potenzialità. Il premio ogni due anni viene assegnato ad aziende che promuovono lo sviluppo del gas naturale nel mondo in relazione all'impatto che le loro iniziative hanno sia a livello locale sia a livello globale. Mike Gallagher, chairman di NGV Global, spiega perché per il 2017 è stato scelto il brand dei veicoli commerciali di CNH Industrial. Iveco è attiva da 20 anni in questo settore ed è stata una delle prime aziende a capire l'importanza dei motori alimentati a gas naturale, a sviluppare nuovi prodotti in diversi settori, dai camion ai bus ecosostenibili. Quest'anno inoltre è la prima volta che il premio viene consegnato nel corso di un evento, scelta che celebra il trentesimo anniversario di NGV Global, ma che è anche un modo per dare ulteriore risalto alla decisione di conferire a riconoscimento una portata internazionale. Se infatti nel 1986 praticamente non esistevano veicoli alimentati a gas naturale, ora sono diventati 23 milioni e l'obiettivo è arrivare a 65 milioni nel 2030, considerando naturalmente anche le automobili. Nel campo dei veicoli commerciali Iveco ha già 16 mila mezzi alimentati a gas naturale circoranti in Europa ed è il leader indiscusso in questo settore. Finora era piuttosto una realtà legata a certi segmenti, qualcuno potrebbe dire nicchie del mercato, legate probabilmente ai servizi urbani come la raccolta rifiuti o il trasporto pubblico. Eccoci noi Iveco con questo premio e con una gamma completa, colla adatta, completamente operativa e che può perfettamente dare una soluzione oggi per i business oggi. Il premio consegnato a Rotterdam è l'ultimo di una serie di riconoscimenti per Iveco sia dal punto di vista della leadership tecnologica sia sul fronte della sostenibilità.